Non si è parlato soltanto di quanto è stato ridotto il debito, di per sé già un successo in un paese che anziché ridurlo lo incrementa, ma anche e soprattutto degli investimenti che coinvolgono i parmigiani. Ma ieri sera al Cinemastra non c'era il grande pubblico. Una partecipazione non massiccia, a testimonianza del fatto che condividere le scelte amministrative e prestare attenzione all'operazione trasparenza decisa dal Comune per i parmigiani non è evidentemente una priorità. Ma sindaco e assessori ci hanno provato. Grafiche e slide, tabelle chiare sulla situazione debitoria del cosiddetto gruppo Parma, e cioè Comune e società partecipate, entrate e uscite per spesa corrente in conto capitale, con in più il piano triennale delle opere pubbliche. Dopo l'introduzione del sindaco Pizzarotti ha parlato l'assessore al bilancio Ferretti. Dal 2011 al 2013 il debito è passato dagli iniziali 875 milioni a 550 milioni di euro. Azzerato il debito del Comune con le imprese, la Giunta 5 Stelle si era trovata da saldare conti per 129 milioni di euro. L'assessore all'urbanistica Alinovi ha elencato le priorità legate agli investimenti. Sarà completato il Duc B dove verranno ospitate le partecipate, poi risorse per il Teatro 2 all'Arena Shakespeare, per l'Exostello della Cittadella, per il complesso bibliotecario San Paolo e ancora il Teatro Regio e l'Ospedale Vecchio, infine il Parco Ducale con una nuova apertura a nord davanti alla sede dell'Efsa. In più 16 milioni di euro investiti per la sistemazione delle strade, 2 milioni e mezzo per la manutenzione del verde e degli impianti sportivi, 3 milioni di euro per la ristrutturazione di scuole ed edifici di edilizia sociale. Ai presenti al Cinemastra è stato consegnato anche un pieghevole che riassume tutte le azioni di bilancio del Comune.